Ciao sono Luca e in questo video vedremo come dividere i gruppi muscolari nei vari allenamenti. Si possono infatti usare più tipologie di allenamento, ad esempio diciamo combinando diversi gruppi muscolari ovviamente poi in parentesi il tutto va personalizzato in base a tante variabili come obiettivo, forma fisica iniziale, composizione corporea, periodizzazione eccetera, però al netto di questo discorso la prima tipologia prevede di allenare il corpo nella sua interezza, quindi un classico total body. Ovviamente è una logica per certi versi un po' vecchia, per fare virgolette, perché si utilizzava un po' negli anni 50, poi dopo i bodybuilder hanno cominciato a dividere i gruppi muscolari per colpire ogni muscolo con una maggiore intensità, perché ovviamente se fai ogni volta tutto il corpo non puoi il giorno dopo allenarti di nuovo e ovviamente il corpo ci mette più tempo a recuperare, nel senso che comunque per allenare lo stesso gruppo muscolare dovresti aspettare più giorni, non puoi soprattutto, cosa più importante, allenarti con maggiore intensità per ogni singolo muscolo perché se devi allenare tutto, compresi grandi gruppi muscolari come petto, schiena e gambe, diventa molto difficile. Però in certi casi può essere utile banalmente quando magari hai meno tempo, oppure se l'obiettivo magari è perdere peso, diciamo che se anche il recupero è inferiore per i singoli muscoli e il problema è minore, quindi sicuramente potrebbe andare bene, quindi comunque la prima tipologia giusto per conoscenza è il total body, che in alcuni casi, a seconda per l'appunto di tante variabili che possono essere per l'appunto la perdita peso piuttosto che altri obiettivi, può andare bene. Dopodiché per l'appunto come dicevo prima, nel corso del tempo si è cominciato un po' a dividere i gruppi muscolari per colpire ogni singolo muscolo con una maggiore intensità, quindi come seconda tipologia, come seconda suddivisione abbiamo il fatto di allenare e dividere il corpo in parte superiore e inferiore, quindi prima alleni una, poi alleni l'altra. Già questo è migliore perché appunto come dicevamo prima puoi colpire i singoli muscoli con una maggiore intensità, maggiore focalizzazione per magari fare più esercizi, più serie, ripetizioni, quindi anche forse un maggiore volume, però ovviamente presenta sempre un limite dovuto al fatto che se fai tanti gruppi muscolari, quindi magari quando fai la parte superiore fai petto, schiena, spalle e braccia, diventa molto difficile perché ovviamente già petto e schiena drenano molta energia, fra virgolette, puoi fare anche braccia che comunque in parte intervengono già prima e spalle diventa complicato in termini di colpirle al meglio. Poi dipende sempre molto dall'obiettivo, però teoricamente potrebbe essere così. Infatti poi la terza tipologia invece è un estremo opposto rispetto a Total Body chiamata Brow Split dove praticamente fai ogni giorno un muscolo diverso, un gruppo muscolare diverso. Quindi ad esempio fai lunedì petto, martedì schiena, mercoledì le braccia magari puoi farle insieme, giovedì quadricipiti e femorali e così via e magari lasci sabato e domenica come recupero. Quindi in questo caso siamo all'estremo opposto perché appunto ogni giorno fai un gruppo muscolario quasi da solo sicuramente puoi allenarti in maniera molto più diretta, efficace e intensa per colpirlo al meglio. Questo paradossalmente potrebbe anche essere diciamo fin troppo rispetto al Total Body visto inizialmente. Fin troppo nel senso che magari può avere senso magari fare in un'unica sessione anche due gruppi muscolari. E qui interviene per l'appunto l'altra tipologia chiamata diciamo Push Pull Legs, cioè spinta, tirata e gambe dove per l'appunto divide l'allenamento in tre sessioni e la prima prevede movimenti di spinta, quindi petto, tricipiti e eventualmente spalle. La seconda di movimenti di tirata, quindi schiena e bicipiti e infine le gambe che giustamente ha senso fare a parte perché richiedono molta intensità, sforzo e quant'altro. In questo caso quindi questo può essere diciamo la giusta equilibrio fra un estremo che è il Total Body dove fai tutto quindi non puoi focalizzarti al meglio e la Brow Split che magari non è necessariamente obbligatoria perché facendo un solo muscolo potresti magari avere ancora energia e tempo per colpire un altro gruppo muscolare. Quindi questo Push Pull Legs, cioè spinta, tirata e gambe può essere un buon compromesso posto ancora una volta che tutto va personalizzato in base a tante variabili per colpire al meglio il corpo e ha una sua logica perché quando vai a fare petto anche i tricipiti in parte intervengono quindi ha senso poi una volta fatto il petto inizialmente nella sessione di andare a colpire definitivamente anche i tricipiti così come quando fai la schiena in parte colpisci i bicipiti quindi a fine sessione comunque dopo la schiena in quella sessione ha senso colpire anche i bicipiti quindi ovviamente ha una sua logica. Infine nell'ambito del mio sistema di allenamento il metodo Butterfly possiamo dividere i gruppi muscolari in questo modo sessione 1 petto e schiena, sessione 2 spalle e braccia, sessione 3 gambe e addominali. In generale comunque infine ultimo concetto molto importante per un discorso di aumento della massa muscolare è sicuramente meglio in generale prediligere l'intensità sul volume piuttosto quindi che fare una sessione con tantissimo volume come appunto può essere un discorso dove fai tutto il corpo in un'unica sessione o quasi e magari dopo aspetti tanti giorni prima di allenarti di nuovo ha senso invece fare sessioni molto più brevi e intense magari con la divisione per appunto push, pull, legs molto intense vuol dire che fai un numero di sette ripetizioni con magari pause breve in non più di 60 minuti e dopo lasci passare meno tempo sempre in un contesto in cui i muscoli recuperano prima di fare la sessione successiva quindi piuttosto che fare ripeto tanto volume poi tanti giorni di riposo e tanto volume è meglio fare magari meno volume e una maggiore intensità quindi giocando con un discorso magari di pause più brevi o assenti e magari un po' meno peso però con meno pause sicuramente l'intensità e anche il tempo sotto tensione sono massimizzati meno giorni di riposo sempre in un contesto in cui il muscolo recupera ancora una volta una sessione molto breve e intensa che rappresenta un buon shock per il corpo ancora una volta pochi giorni di riposo cioè il giusto farà che non siano troppi e così via quindi meno volume però maggiore intensità sicuramente per una migliore efficacia come sempre infine ti invito a seguirmi su facebook e sul mio sito e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online ciao per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare qui trovi tutti gli altri video che ti consiglio di guardare ciao ciao ciao